Grazie, grazie Federico per l'invito. Riconosco tante persone con le quali in questi anni abbiamo avuto modo di confrontarci e di interagire. Quindi tema BPCO e asma. Io ho riflettuto rapidamente se concentrarmi più sulla BPCO, concentrarmi più sull'asma oppure se discutere di entrambi. In realtà ho pensato di spendere qualche parola in più sull'asma e questo in ragione di un fatto che è già stato segnalato da Federico e cioè l'osservazione che i dati sulla BPCO presentano certamente un difetto metodologico. Questi sono le slide che ha già fatto vedere Federico, ma noi siamo interessati dal punto di vista e dalla prospettiva della medicina ospedaliera, siamo interessati soprattutto al problema delle esacerbazioni e dei ricoveri. Voi sapete che l'esacerbazione è quello che segna e modifica l'aspettativa e la qualità di vita dei pazienti, oltre ad avere un rilevantissimo impatto economico. Ora, i dati che Federico faceva vedere sono dei dati, ma non ci torno, che segnalano un problema, cioè è impensabile che il 94% dei pazienti di BPCO non abbiano un'esacerbazione nel corso di un anno a fronte, come diceva Federico, di un rilevantissimo accesso ai pronti soccorsi. E d'altra parte, l'altra faccia di questo dato, è ancora una volta una carenza, presumibilmente, secondo me, di codifica nella definizione dell'impatto sull'ospedalizzazione di questa coorte di malati. Quindi è difficile, dal mio punto di vista, commentare questi dati e, diciamo, il difetto metodologico viene ribadito anche dalla conclusione di un recente studio che abbiamo condotto, in cui i dati stanno per essere pubblicati, a cui ha partecipato anche Massimo, uno studio che aveva per oggetto il telemonitoraggio di pazienti affetti da BPCO, lo studio all'interno di un progetto europeo. Ma questo studio documenta che, fatto per carità in condizioni controllate, su una popolazione abbastanza consistente di pazienti, evidenzia che in realtà il tasso di esacerbazione e il tasso di ospedalizzazione di questi malati è certamente più ampio di quello che si è visto nella casistica di questa mattina. Si aggira come minimo intorno ad un ricovero per anno, più o meno, a seconda che la causa sia l'esacerbazione di malattia o sia una causa associata a questa malattia. Quindi, tenuto conto di queste considerazioni, ho pensato di focalizzarmi e di spendere due parole in più sul problema asma. Il problema asma in considerazione del fatto che i dati che Federico ha presentato sono dei dati, a mio parere, certamente più coerenti e più rispondenti alla realtà dei fatti. Cioè una prevalenza di malattia intorno al 6% è quella che viene riportata dalla maggior parte delle casistiche. A questo aggiungiamo il dato che è stato presentato di un progressivo aumento della prevalenza. Ma gli elementi su cui riflettere, secondo me, e gli elementi su cui ragionare sono soprattutto due che sono stati già in parte segnalati. Cioè c'è una carenza, indubbiamente, nella presa in carico di questi pazienti. Perché, primo dato, nonostante la spirometria non rappresenti un tratto fondamentale in tutta la storia clinica, diciamo, del paziente asmatico, è difficile pensare che in un anno solo il 14% dei pazienti abbiano avuto accesso a questo tipo di diagnostica. E le cose non vanno meglio se si considerano i tre anni precedenti, come vedete qui. Ma il dato ancora più rilevante è quello della inadeguatezza terapeutica. E cioè il 50% dei pazienti non hanno alcun farmaco in terapia, un ulteriore 25% fa il broncodilatatore al bisogno. Allora questa non è una considerazione esclusivamente di carattere filosofico, ma ha delle ricadute. Le ricadute sono queste. Questa evidenza conduce a ritenere che l'appropriatezza terapeutica manchi per una buona proporzione di pazienti. Ma la mancanza di un appropriato approccio terapeutico significa rischio di sottotrattamento della malattia. Rischio di sottotrattamento della malattia significa rischio di cattivo controllo della malattia. Rischio di cattivo controllo della malattia significa mancare gli obiettivi del trattamento. E gli obiettivi del trattamento sono quelli che vedete riportati qui. No sintomi, no riacutizzazioni, no accessi al pronto soccorso, no ospedalizzazioni, no limitazioni all'attività di vita quotidiana, buona funzionalità respiratoria. D'altra parte, mancare questi obiettivi e perdere il controllo della malattia significa esporsi ed esporre il paziente ad una serie di altri eventi. Scarse presenza di sintomi, riacutizzazioni, riacutizzazioni gravi e impairment funzionale stabile. Allora vediamo come vanno le cose. Le cose vanno così, almeno vanno così secondo noi e secondo un mio collega allergologo di Verona, il dottor Senna, con il quale ho una stretta collaborazione. Questi sono i dati degli accessi al pronto soccorso di Padova e Verona per esacerbazione di asma nel corso degli ultimi tre anni. I dati dicono che c'è un netto aumento, un significativo aumento di questi accessi sia a Padova che a Verona, crescente, vedete Padova si passa da 300 a 400 accessi in un anno. In secondo luogo questi dati ci dicono che il numero di accessi, l'incremento del numero di accessi riguarda direi soprattutto le classi di età più giovani. In terzo luogo questi dati ci dicono che l'aumento del numero di accessi riguarda tutte le categorie, le classi di gravità del paziente nel momento in cui accede al pronto soccorso. Quindi questo scarso, questo inadeguato controllo terapeutico in primo luogo, stando a questi dati, si traduce in un aumento nella nostra regione del numero di, perlomeno a Padova e a Verona, nel numero di accessi dei pazienti al pronto soccorso. Insomma non è questo l'unico problema. Il problema è che di asma teoricamente si può morire. Diciamo che i dati di morti per asma sono dati che indicano un trend favorevole. Giappone, Stati Uniti, Europa, Italia. D'altra parte però diciamo che nel corso degli ultimi paio d'anni io e noi eravamo stati colpiti da quello che anche voi sapete morte per asma, morte per asma, stiamo parlando di Padova, di Verona, morte per asma, morte per asma, al punto da indurci ad approfondire le cose. Il metodo con cui le abbiamo approfondite è un metodo grossolano, ma d'altra parte è un metodo che è stato accettato dai revisori del paper che sta per essere pubblicato. E cioè siccome era difficile capire chi in Italia fosse morto per asma, abbiamo fatto una ricerca utilizzando Google e con le parole chiave che vedete. 23 morti in Italia per asma, riportati con questa, evidenziati con questa strategia, in un anno e mezzo. 17 morti in Veneto per asma bronchiale. 17 su 23. Quindi si cerca di capire un po' meglio come funzionino le cose. Cioè chi è che è morto per asma? Beh innanzitutto sono morti pazienti, soprattutto pazienti giovani e pazienti maschi. Un primo dato è qual era il livello di presa in carico a cui questi pazienti erano sottoposti, lo vedete qui. Quando il dato era disponibile, la risultante era che la presa in carico era assolutamente sporadica. Procediamo. Che caratteristiche avevano i pazienti che sono deceduti per asma fatale? Ove il dato sia disponibile, la grandissima parte di questi pazienti usava, se li usava, solo broncodilatatori short acting ha bisogno. Cioè pochissimi erano i pazienti che avevano una, erano, facevano uso di una regolare terapia anti-asmatica in accordo con le più comuni e più diffuse linee guida. Inoltre, per inciso, questi erano pazienti molto spesso fumatori, talora abusavano di altri tipi di, erano tossicodipendenti. Questo per dire che, come sappiamo, ma è inutile che lo ribadisca, ancora una volta anche la prevenzione del rischio fumo e quanto questo rischio si ribatta poi sulla possibilità di una crisi di arma grave, è un elemento importante e un elemento negato in questa popolazione di pazienti. Poi, così, a beneficio di tutti, noi abbiamo cercato di, ovviamente, di approfondire ed esaminare qualche altro dato su questi pazienti, dove e quando muoiono questi pazienti. Adesso lo vediamo, dove e quando la maggior parte dei pazienti muore nelle ore notturne e questo è un dato atteso perché voi sapete che la notte, vuoi per delle ragioni di controllo neurologico, vuoi per delle ragioni di meccanica respiratoria, vuoi per delle ragioni di coesistenza di fattori scatenanti, apnea nel sonno, reflusso gastoesofageo, la notte è una fase di rischio per il paziente premopatico e tanto più per il paziente asmatico. In più erano tutti i pazienti che, cioè non erano tutti, erano molti pazienti che morivano a domicilio o all'aperto. Pochissimi di questi pazienti sono arrivati in ospedale, sono morti in ospedale. Allora si è posto anche il problema di vedere se ci fossero dei fattori scatenanti ambientali. Per quello che riguarda questi fattori scatenanti ambientali, è emerso non particolati, non PM10, che in tre o quattro casi c'erano dei picchi di concentrazione di ozono. Ora l'ozono, prendiamola come vogliamo, però è noto essere associato all'incremento di alcuni parametri di infiammazione bronchiale che vanno dal numero dell'eosinofilia, dal tasso di eosinofilia alla concentrazione di ossido nitrico nell'esalato. Ancora un punto. Questi episodi venivano in casa o venivano all'aperto. C'erano degli altri fattori scatenanti di tipo allergico, sostanzialmente. Allora no pollini, ma in sé di questi casi dei picchi di alternaria. L'alternaria è una muffa che cresce soprattutto in ambienti umidi e che notoriamente si associa al rischio di crisi di asma grave e questo in ragione ad una serie di meccanismi che sono stati ipotizzati, in particolare l'increzione di una interleuchina, l'interleuchina 33, che è coinvolta nei meccanismi di flogosi bronchiale. Quindi, conclusioni. Cosa ci dicono questi dati che si riferiscono, ripeto, alla nostra regione? Questi dati ci dicono che ci sono dei pazienti che muoiono per asma, sono soprattutto giovani, maschi, con estremamente bassa adesione al trattamento, sono per lo più allergici. È da notare che nella maggior parte dei casi non sono pazienti con una storia di frequenti e gravi riacutizzazioni, ma sono pazienti che hanno un asma di tipo lieve o moderato, e questo è noto anche dalla letteratura. Sono pazienti che muoiono soprattutto durante la notte, fuori dall'ospedale, spesso durante picchi di alternaria, perché muoiono varie ipotesi, ma una di queste ipotesi è, senz'altro, l'inadeguata approccio terapeutico. Ultima. Quindi, cosa ci suggerisce il fatto di combinare questi dati con i dati che ha fatto vedere Federico? Beh, ci suggerisce che certamente in questo momento, per i pazienti asmatici, l'inquadramento clinico funzionale e le strategie terapeutiche, per molti di questi pazienti sono insoddisfacenti, ci suggeriscono questi dati che il controllo della malattia in questo momento nella popolazione è insoddisfacente e ci suggeriscono che c'è un rischio significativo, non sappiamo se crescente, di morte per asma. Grazie per l'attenzione. Grazie. 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 Grazie.